Tato da Il Bombolone del Mulino Bianco, così soffice e così buono. A voi tutti e a voi tutti la più cordiale, buonasera. Quello di oggi si potrebbe definire quasi un martedì grasso, se non fossimo in piena quaresima. Grasso nel senso che abbiamo tantissimi avvenimenti ed importanti da proporvi. Cominceremo con la finale di Coppa delle Coppe di Basket. Ascette già alle mie spalle, vedete le immagini che ci giungono da Atene. Assisteremo al confronto fra Sneijder o Caserta e Real Madrid con il commento di Sergio Taucher. Poi parleremo di pallavolo, parleremo di calcio con la Coppa UEFA, di pallavolo con la Coppa delle Coppe, dei campionati mondiali di patinaggio artistico nella corso di questa giornata. Ma siccome sta per iniziare la partita ad Atene, direi di collegarci subito con la capitale della Grecia per assistere a questo confronto che ne propone un altro al suo interno. Quello fra Drazen Petrovic e Oscar, l'atleta jugoslavo e il brasiliano che fanno grandi le due squadre. Il Real Madrid e la Sneijder o di Caserta. La mia è anche una domanda, domanda che è rivolta per avere la conferma a Sergio Taucher. Sì, eccomi Franco. Certamente questo incontro è un incontro molto importante nel quale sicuramente Drazen Petrovic e Oscar avranno le parti principali. Penso però che si possa dire che certamente non sarà solo scontro fra questi due giocatori che deciderà il confronto. Ovviamente un uomo solo per quanto bravo non può certamente decidere la partita, bisogna però dire che tutto sommato molte cose dipenderanno dal rendimento di Drazen Petrovic e di Oscar. Per quanto riguarda il Drazen Petrovic, questo palazzo per lui è un po' glorioso, il palazzo della pace e dell'amicizia del Pireo, per me a dire di Neo Faliro, vicino al Pireo, dove Zibona conquistò il 1985 la sua prima Coppa dei Campioni, proprio contro il Real Madrid. Il Real Madrid che le ha tentate di tutte, bisogna dire, per fermare Drazen Petrovic, quando giocava nel Zibona, ha scelto probabilmente la tattica migliore, cioè quella di prenderselo per sé. Per quanto riguarda il Snyder, invece, questa è la prima finale che la Snyder gioca di Coppa dei Campioni, una squadra che, per quanto riguarda l'esperienza internazionale, ha solo una finale di Coppa Courage nel 1986, persa contro il Banco Roma. Oscar, però, si può certamente dire, sia un giocatore non dotato di esperienza. Grazie alle sue bombe, ricordiamo che il Brasile vinse l'ultima edizione dei giochi panamericani, e pertanto, certamente, si tratta di un giocatore che fa la differenza e su quale si basa tutto il gioco del Snyder. Sergio, ecco, quel chissà, e ti chiedo, è sempre una domanda, come mai le squadre italiane, che pure in Coppa dei Campioni in maniera particolare, in quali si distinguono sempre abbastanza bene, in Coppa delle Coppe è già da sei anni che non riescono più ad ottenere il successo? Beh, sai Franco, le coppe che non fossero Coppa dei Campioni fino a non molto tempo fa erano così, delle coppe un po' di ripiego, e le squadre europee non è che le affrontassero con grandissima determinazione. Poi, con l'allegarsi dell'interesse per il basket, quando tutti hanno visto che le coppe pian piano cominciavano a diventare una cosa estremamente importante e interessante da tutti i punti di vista, le grandi squadre hanno cominciato a giocare anche queste coppe, diciamo, così minori. Questo è un per sminuire i successi delle squadre italiane negli anni fino al 1983, quando vinse Scavolini, però poi sono cominciate a venire a giocare la Coppa delle Coppe, squadre come Parcellona, come Real Madrid, squadre fra le più forti d'Europa e pertanto chiaramente il livello si è alzato e anche vincere ha cominciato a diventare un po' più difficile. Più complicato. Bene, mancano 30 secondi all'inizio della partita, Sergio ti lascio in compagnia di questo confronto e ci auguriamo che alla fine poi tutti quanti si possa tranquillamente dire, abbiamo assistito, al di là del risultato, a un grandissimo spettacolo. Grazie. Coppe europee di basket, in collaborazione con Enikem, tra i campioni degli anni 90. Eccoci ora, gentili tespiattori, nuovamente con le immagini da Atene dove sta per cominciare la finalissima della Coppa delle Coppe 1988-89, Real Madrid in maglia bianca, Snyder o Caserta in maglia nera, con bordi arancio, vediamo il primo quintetto delle due squadre subito per capire un po' come hanno improntato, tatticamente, la partita ai due allenatori, Marcelletti per la Snyder o di Caserta e Manuel, detto Lolo Sainz, per il Real Madrid. Ricordiamo anche gli arbitri sono, vedete, sul sfondo adesso sta per alzare la prima palla, quello che noi reputiamo, l'arbitro numero uno, in Europa c'è Costa Srigas, arbitro greco, e l'altro arbitro è Jugoslavo Zavko Kurilic di Tuzla, vediamo subito l'inizio della partita con Gentile a marcare Dražen Petrovic, primo canestro è però segnato con tiro da fuori da numero 14, Johnny Rogers. Nuo che ci sono, Gentile, Esposito, Klučko, Oskar, Dell'Agnello, Oskar, avversario subito per la Snyder, ho ben servito sotto canestro, 2-2 per il Real Madrid, Dražen Petrovic, Birukov, Fernando Martina, Antonio Martina e Rogers, non parte dunque il primo quintetto Romai, tiro da tre di Birukov e Sena Birukov, primi tre tiri tutti avversario per ambie due squadre, Gentile, subito dall'altra parte, risponde con una bomba da distanza folle, dunque inizio scoppiuttante di questa partita, due tiri per parte, tutti avversario, tra cui due bombe, Dražen Petrovic è marcato adesso da Esposito, tira a sbaglio, il primo errore in balzo è di Gentile, ha cominciato molto bene la Snyder senza alcun timore reverenziale, del resto su una squadra che ha poco da perdere in questo conto, quale parte sfavorita? Certamente la Snyder, Dražen Petrovic in penetrazione contro Esposito, riapre per Rogers il tiro di Rogers, altri due punti, dunque 7 a 5 per il Real Madrid, questo canestro segnato da Rogers, vediamoci dal Spetrovic su Gentile, Birukov su Esposito, marcature a uomo, c'è Antonio Martinsu Gluckov, Oscar al tiro, su lui Rogers il rimbalzo è di Birukov, Birukov potrebbe essere l'uomo chiave di questa partita, se come si pensa intanto c'è ancora un tiro di Rogers, altri due punti ha cominciato nel modo migliore per la sua squadra, Rogers su quale probabilmente la Snyder non ha approntato degli speciali marcature difensive, dicevamo Dražen Petrovic un uomo sul quale probabilmente si alterranno in stappetta ai difensori del Snyder, ma per questo Birukov potrebbe avere più libertà per sparare le sue micidiane bombe da lontano, dall'altra parte intanto diamoci un anticipo di Fernando Martín su Dallegnello vedremo dall'altra parte invece per il Real Madrid come avrà appuntato il problema Oscar, Dražen Petrovic controesposito va a segnare e ha ricevuto la palla in posizione di pivot basso, Dražen Petrovic ha approfittato di questa, anche della differenza di statura tra lui ed esposito per andare a segnare, intanto Kurilic fischia il primo fallo di questa partita, partita ha cominciato a modo molto corretto, un tentativo di anticipo di Fernando Martín su Dallegnello falloso, esposito a Gentile marcato da Petrovic vuole le tratte Gentile, tiro però un po' forzato, rimbalzo di Antonio Martín, Petrovic in contropiede Petrovic perde la palla per aver voluto troppo Oscar, uno contro uno con Roger, sbaglia, c'è il Tepin mancato di Dallegnello, poi Gentile segna e smisce anche a fallo da Antonio Martín molto bravo Gentile, primo fallo del più giovane dei fratelli Martín e canestro di Gentile 11 a 7, Real Madrid ha avuto la possibilità di prendere primo break in queste due battute è stata molto brava la Snyder a impedirglielo, soprattutto Gentile con questo recupero, canestro e fallo, due falli vedete 22 anni, ho dato Gentile, 12 a 8, sono 6 punti di Gentile e due quelli di Oscar, fino a questo momento per la Snyder Pieriukov da 3, è segna Pieriukov, dicevamo che può essere l'uomo chiave di questa partita Pieriukov fino a questo momento, due tiri, due canestri, tremendo l'inizio della Madrid fino a questo momento ha sbagliato un solo tiro con Petrovic, Dallegnello è entrata molto bene, bruciato nettamente Fernando Martín, Dallegnello, primi due punti, Rodgers da fuori altri due punti, dobbiamo vedere se la Snyder non riesce a resistere a questa buriana iniziale un po' chiaramente il Real Madrid continuare a segnare con le medie di questi primi minuti Oscar in penetrazione, si libra molto bene, sbaglia, ribalzo di Gluckov, sbaglia Gluckov c'è un fischio canestro convalidato perché qualcuno ha toccato l'anello di ferro mentre la palla stava ballando sopra dunque primi due punti per il bulgaro Gluckov, vediamo, ribalzo di Gluckov, non vediamo però il tiro successivo primi due punti dunque anche per Joky Gluckov Petrovic sempre controesposito, vedete, si libera per il tiro e segna anche Drasio Petrovic sempre più sei per il Real Madrid, quattro punti di Petrovic Oscar, bombardamento da una parte e dall'altra, Oscar, quattro punti gran, bella partita fino a questo momento, sta segnando a velocità, è subito con una calcettuale vertiginosa fino a questo momento, difese certamente non proprio ferre fino a questo momento però chiaramente quando si tira poi bisogna comunque metterla dentro Rasen ancora Biriukov, altra bomba, altro canestro, incredibile Biriukov, presso tre fino a questo momento nei tiri pesanti sono la differenza in questi primi minuti da Snyder praticamente ha segnato ogni attacco eppure si ritrova sotto di sette punti una cosa veramente molto frustrata, Della Agnello da tre, anche lui segna Della Agnello che pure non è un strepitoso tiratore da fuori 21-17, cinque punti di salto Della Agnello Snyder sta giocando decontrazione completa e questo è un bene sta tenendo, sta tenendo la Snyder, questo è molto importante questi primi minuti Rasen si alza per il tiro da tre, lo sbaglio è l'unico veramente ha sbagliato finora tiri, su rimbalzo c'è un fallo di Gentile e anche il primo fallo in assoluto del Snyder in questa partita time out, vediamo il tiro forzato anche di Petrovic, rimbalzo di Fernando Martín su quale arriva Gentile e comette i falli 21-17 per il Real Madrid, ricordiamo che Real Madrid e Snyder sono già affrontate nel girocino del semifinale di questa Coppa delle Conte in abitulio Casuni, vinse il Real Madrid Real Madrid in casa, nettamente, 109-192 17 punti intanto sentiamo Marcelletti, cosa dice? andiamo cercando Polesello, numero 11 Polesello che vediamo chi sostituisce poi a Caserta vinse il Torre del Real Madrid 95-94 Real Madrid che ha già vinto una volta la Coppa delle Conte per il 1984, battendo in finale con la squadra italiana e c'è l'attuale Philips di Milano Rodgers al tiro e ancora segna Rodgers che fino a questo momento non ha sbagliato neanche una conclusione 10 punti con questo giocatore discusso con primario però questa partita sta facendo cose incredibili Blusko viene entrata, perde la palla ricopro di Biriukov Petrovic è solo per il tiro da tre lo segna a Drazin Petrovic più 9 per il Real Madrid Drazin Petrovic, 7 punti per lui fino a questo momento Marcelletti invitava alla pazienza, alla calma come fa durante il time out c'è Rodgers su Oscar Oscar in penetrazione va a forzare un tiro, subisce il pallo di Fernando Martini dal Fernando Martini è il secondo pallo rivediamo due tiri liberi per Oscar Schmitt 31 anni fattenato nel 1950 Oscar un attore che già alle Olimpiadi di Mosca nel 1980 era una delle più grandi stelle del firmamento mondiale la Ligusdavia se lo ricorderà molto bene perché contro la Ligusdavia nella partita che per la Ligusdavia era estremamente importante perché dicendo contro il Basile avrebbe potuto espromettere come l'ha fatto poi l'infinitivo l'unione sovietica dalla finalissima Oscar fece veramente il diavolo a quattro in quella partita segnando da ogni posizione tiro sbagliato di Antonio Martini rimbalzo facile per la Snyder non c'era nessuno a rimbalzo Oscar stavolta va molto bene via Rodgers il tiro rovesciata molto bello di Oscar che riporta la Snyder a meno 5 mettiamo estremamente importante per la Snyder ottenere la botta in questi primi minuti quali Real Madrid segna come disperato Antonio Marticea Rodgers ancora il tiro altri due punti Rodgers macchina in queste prime battute già 12 punti per lui 6 su 6 al tiro pazzesco mai visto giocare questo una giocatore modesto in modo talmente produttivo come questo una vera propria macchina tanto Gentile marcato da Petrovic un fallo dello stesso Petrovic che forza un blocco primo fallo per Brasen Petrovic finora le reali hanno segnato solo gli esterni 12 Rodgers 9 Birukov 7 Petrovic nella Snyder 8 Oscar 6 Gentile 5 dell'Agnello 2 Blusco Gentile da grande distanza e qui dalla bomba Gentile Snyder malgrado tutto e a meno 4 Gentile 9 punti grande partita fino a questo momento chiuso Orlando Martintiro molto forzato ribalzo di Blusco Gentile Gentile unica guardia fino a questo momento è stata utile questa manovra per ora si fa stoppare Petrovic in contropiede contro dell'Agnello c'è il fallo dell'Agnello non può far nient'altro per fermare l'entrata di Grasen Petrovic ci vediamo in replay anche se un po' distrubato questo problema con il tecnificatore la Grecia usa il sistema secca per la francese con i problemi con gli sganciamenti di me Grazie Petrovic i primi tiri liberi per il Real Madrid di questa partita 29 Real Madrid 24 Snyder 8 punti per il Miglio d'Oro il mago blanco maestro come volete a Madrid mazzetti per lui Grazie Petrovic anche bisogna dire dal punto di vista estremamente economico non è che se la passa molto male nelle capitali spagnoli fallo di Antonio Martini secondo fallo sempre fuori Romai Polesero ha subito il dispositivo con quei quattro lunghi tiro di Oscar stoppato la palla è stata toccata di Riuco l'ha rimessa ancora per il vediamo la stoppata dal replay si vede che Roger stoppa la palla per vedere si tocca anche la mano Bellagiello ha giusto giusto Fernando Martini molto interessati a quello che deciderà la federazione internazionale in aprile prima del finale di Monaco di Coppa dei Campioni di Coppa dei Campioni sono ritornate le immagini ma ballano tiro sbagliato recupera Petrovic da tre sbaglia anche lui rimbalzo di Polesero fallo di Rogers Rogers secondo fallo settimo fallo per il Real Madrid Oscar al gancio sinistro rimbalzo di Gluczkov segna Gluczkov attenzione la Snyder è a un solo punto mentre le immagini non le vedevamo Oscar aveva segnato canestro subito fallo da Rogers e segnato anche un tiro libero supplementare dunque 30 a 29 solo punto di vantaggio per Real Madrid dunque a Buriana iniziale è finita sembra bel passaggio di Gras per Birukov c'è il fallo di Polesero sono tre falli per la Zaidero però Birukov ha segnato anche subito anche fallo rivediamo l'azione passaggio bello di Petrovic per Birukov Birukov che si alza subisce il fallo di Polesero riesce a tirare lo stesso di sinistro e la palla si infila precisa nella rete tiro libero supplementare per José Birukov 11 punti per lui in questo momento sono 12 riprende 4 punti vantaggio Real Madrid 12 lui 12 Rogers Rogers che però ha già tre falli tre falli lui due falli Antonio Martin potrebbe essere importante il fallo di Rogers in questo momento è stato infermabile la difesa tanto Oscar bomba 14 punti di Oscar Oscar ancora riporta un solo punto Petrovic fuori ancora Birukov ancora Petrovic Rogers poi Antonio Martini Petrovic penetrazione il passaggio per Antonio Martin però dovrebbe esserci tre secondi e entrerà Cargol per il Real Madrid pep Cargol con il numero 13 esce Rogers appunto Rogers come detto ha tre falli mentre pep cargol 21 anni 2 metri e 6 uno dei giovani più interessanti del basket spagnolo no non ci sono tre secondi è stato un fallo Antonio Martin per Birukov in penetrazione Birukov che poi forza il tiro rimbalzo controllato da Gentile Snyder con la palla del sorpasso serve il primo vantaggio Snyder in tutte le partite Oscar c'è il fallo di Cargol subito su Oscar primo fallo di Cargol Oscar dovrebbe andare in lunetta con uno più ma è un momento questo molto molto importante le partite dicevamo per la Snyder è estremamente importante non accusare la buriana iniziale del Real Madrid che è una squadra conscia dei propri mezzi e di essere la squadra favorita ha cominciato fino a decontrazione questa partita tirando con grande tranquillità segnando anche con grande tranquillità però evidentemente questo fatto di essere favorita un po' condizionata sotto in difesa dove ha dato molto spazio ai creatori della Snyder che ne ha scritto a profiter ha segnato alcune bombe estremamente importanti soprattutto con Gentile una con dell'agnello un momento importantissimi che hanno tenuto la Snyder a contatto del Real Madrid adesso il Real Madrid si trova dopo aver giocato praticamente il modo perfetto in attacco la Snyder a un solo punto con la palla del sorpasso adesso in mano a Dosker tirerà l'uno più uno e dunque a questo punto il Real Madrid potrebbe cominciarsi a chiedere se in effetti questa partita sia tanto facile quanto pensava la squadra appena entra il tarlo del dubbio che la squadra possa che la partita possa non essere tanto facile come si pensava per gli avversari le cose quelli sfavoriti le cose cominciano a diventare molto migliori ovviamente anche il rovescio della medaglia la Snyder a questo punto si sta rendendo conto che può vincere la partita primi due punti adesso di Antonio Martin le immagini purtroppo vanno e vengono sono dei grossi problemi sulle linee dei quali non siamo assolutamente noi colpa diamo scusa speriamo di vedere quel tanto che si può vedere gentile da tre sbaglia il primo errore nei tiri pesanti del Snyder in questa partita subito in contropiede Fernando Martin segna canestro anche fallo fallo vediamo passaggio è arrivato un po' tardi Polesello che poi tenta di spingere di pancia Fernando Martin anche il primo canestro questo segnato da Fernando Martin che adesso può tirare ancora un tiro libero supplementare ha ripreso tre punti di vantaggio di Real Madrid mentre esce Polesello vediamo che c'è un giocatore si è fatto male forse Fernando Martin che deve essere ricaduto male sulla caviglia dopo infatti è proprio Fernando Martin ha ricaduto male sulla caviglia dopo il canestro dopo il contatto che ha avuto con Polesello tratto Rizzo con il numero 10 il giovane Rizzo nazionale junior italiano ecco lo vedete con il numero 10 a sostituire Polesello una mossa molto coraggiosa questa dell'allenatore Barcelletti Martini ha sbagliato il tiro libero supplementare proprio Rizzo ha preso questa palla 37 34 Oskar contro Cargol gli va via tranquillamente arresto tiro segna Oskar Oskar già 18 punti 37 36 Petrovic contro Della Cargol da fuori segna Cargol anche Cargol da fuori molto bravo bisogna dire questo ragazzo gran fisico 39 36 per la Snyder però questo molto importante si tiene sempre in linea di galleggiamento Oskar contro Cargol gran bella partita della Snyder Gluckov servito con passaggio prezioso anche Gluckov da fuori Snyder partita della vita fino a questo momento con medie di tiro sensazionale 39 38 non è forse un po' più stringere difesa Snyder c'è l'intervento dell'Aghello su Petrovic palle fuori messa ancora per il Real Madrid in zona d'attacco 12 punti Rogers Biediukov 9 di Petrovic ma ci sono anche 18 di Oscar Petrovic battuti due avversari in entrata molto bene Petrovic 41 punti per lui spate 41 punti per Real Madrid 11 punti Piazza 41 38 fino a questo momento la lotta fra Titani vinta da Oscar bisogna dire che Trasin Margato aveva giocato un paio di tiri da tre ha giocato molto bene fino a questo momento Rizzo molto fuori Oscar gran passaggio sotto Aglut con intervento il Biediukov pallone vedremo se danno due tiri oppure solo uno più uno uno più uno dice Kurilic un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Canestro di Fernando Martini. Canestro di Fernando Martini, 43 a 40, Gentile, marcato da Petrovic. Dell'Agnello, il fallo di Viryukov. Protesta Petrovic, Viryukov, secondo fallo ancora in lunetta dell'Agnello adesso per un 1-1. La Snydero, secondo i nostri calcoli, non dovrebbe avere ancora esaurito il bonus. Dell'Agnello segna il primo tiro libero. Dunque ha diritto anche il secondo. Sei punti per Sandro dell'Agnello. Adesso segna anche il secondo Canestro. Secondo tiro libero. Non ha sbagliato tiro liberi fino a questo momento la Snydero. Anche questa è una prova della giornata. Molto felice in fase di conclusione della squadra che ha vinto la Coppa Italia l'anno scorso. Petrovic, grande giocata in 1-1 contro Dell'Agnello. Trasen praticamente è andato via Dell'Agnello senza che questi si accorgesse dove Petrovic fosse. Dei tifosi dell'Agnello dall'altra parte tira sbaglia e ribalzo di Fernando Martino. Viryukov. Viryukov, Petrovic. Sempre Dell'Agnello su Petrovic. Una mossa che era prevista. Petrovic però sta facendo di Dell'Agnello esattamente quel che vuole fino a questo momento. Forse non è una mossa da continuare con la quale perseverare. Gran Madrid ha ripreso 5 lunghezze di vantaggio. 47 a 42. Oscar marcato da Cargol. Va a forzare questo tiro. Subisce probabilmente un fallo. Gli altri non dicono niente. Glukov lotta come un disperato ma non riesce a conquistare l'imbalzo. Gli altri non hanno pensato che il momento su Oscar fosse fallo. Oscar è un po' andato a cercare il fallo questo gli altri. Puliscono e intanto c'è un gran salvataggio di Glukov. Glukov ha molto sfortuna poverino perché pur tuffandosi per salvare la palla mette un piede. Infatti lo vedete nettamente. Non che lo mette sulla linea, poi lo mette proprio nettamente fuori. La riga può premiare questo suo grande gesto atletico. Fallo di Gentile Subiruto. Gentile, secondo fallo. Un paio di fischi di Riga. Se adesso entrare la Snyder, il primo era abbastanza dubbio. Gli altri due però, per dire. Mesti, nel senso onesti, indiscutibili. Fallo adesso ancora di Dele Agnello Subetrovic. Non è una grande idea, questo è Dele Agnello Subetrovic francamente. Dele Agnello è sì più lungo rispetto a Drazen Petrovic però Drazen in velocità e anche proprio stretta bravura tecnica. Gli è almeno di un paio di Galassio superiore. Uno più uno per Drazen Petrovic che ha segnato in effetti sei. No, niente uno più uno perché appena il settimo fallo di squadra, assolutamente. Ha segnato tre degli ultimi quattro canestre del Real Madrid. Quarantassette del Real Madrid, 42 Snyder. M'hanno dato due tiri. Adesso dovevano dargli gli altri, esattamente. Cargol resto il tiro, sbaglia. Cargol, ribalzi Oscar. Gentile. Vediamo quanto resisterà Gentile. Sempre molto molto dura a giocare tutto da partire su cui questa importanza di questa pressione addosso, essendo la sola guardia che gioca agli altri su tutte ali. Pivot per la Snyder. Forzato all'entrata di Dele Agnello che comunque poi viene premiato perché il successivo rimpallo la palla è giocata ancora dalla Snyder. Noi vediamo le entrate dell'Agnello che va via Cargol, stufo un po' in avanti. Tenta di cercare lo spazio ma non trova il momento giusto per triare. Grande entrata di Kluczko. Un bacio di Gentile, segna Gentile. Una fase molto importante dell'incontro. Gentile ancora una volta ha ripreso una palla e sembrava già morta. Fallo adesso di Gentile su Petrovic. Terzo fallo di Gentile, attenzione. Protesta Gentile. Sainz sullo sfondo, Marcelletti. Uno più uno per Petrovic. È la prima occasione che il Gran Madrid ha di andare al tiro libero di bonus. 24 anni. Compierà 25 in ottobre. Dras Petrovic che sbaglia. Primo tiro di bonus. L'errore di Dras Petrovic dalla lunetta. Dunque la Snyder ha la possibilità di arrivare adesso con una bomba addirittura in pari. Gentile su lui sempre Petrovic. Oscar. Bella la penetrazione di Oscar. Sfortunato dalla palla che rimbalza sul canestro. Con Oscar che è fuori tempo e poi un malinteso fra Kluczko che Gentile. La palla dovrebbe essere del Real Madrid. Sfortunata la Snyder. Stavolta Oscar ha fatto tutto quanto molto bene e ha andato anche sul proprio rimbalzo. È stato beffato in controtempo dal ballonzolio della palla sulla nero di ferro. Poi un malinteso. Snyder in zona se va adesso. Petrovic da tre. Segna Drasen da tre. 18 punti per lui. Adesso ha pareggiato Oscar Petrovic. Adesso sta giocando veramente da Petrovic in queste battute. 18 punti per lui. 50-44. Ovviamente deve ispirarlo in questo parquet. Anche se ai europei del 85 fu poco meno che una frana. Cioè no. Proprio una frana vera e propria. Fallo di Cargol su Oscar. Cargol. Secondo fallo. Anche la marcatura di Cargol su Oscar è molto discutibile. Oscar è troppo più bravo rispetto al Cargol. Erizzo che ha tenuto il capo del poco che è stato impiegato bene. Esce. Oscar 1 più. Segna Oscar. 50-45 Snyder. Oscar sta nuovamente vincendo la battaglia con Petrovic. 19-18 nello scontro personale. 20 punti per Oscar. Snyder o a meno 4. Partita dal punteggio stratosferico. Vedete? Infatti la Snyder o in zona. E Petrovic dalla sua mattonella è ancora un tiro da 3. Quella è proprio la mattonella di Drasen Petrovic. Alla tre quarti sulla destra. E le tiro per lui preferito quando deve tirare da 3. Secondo quando un po' prima fare una specie di bolleggio sui piedi. Gentile però dall'altra parte. Semplicemente commovente. Bravissimo Gentile. Prende delle iniziative a volte pazzesche come questo tiro da 3. Però gli vanno tutte dentro. Dunque solo da applaudire. Soprattutto per il coraggio. Per la grinta di Vincente che sta dimostrando. 53 Real Madrid. 49 Snyder. Petrovic attaccato da Esposito. Inizio il 1-3-1 della Snyder. Petrovic tenta di penetrare e scaricare. Riceve sempre sulla sua mattonella e altra bomba. Petrovic sta ammazzando adesso con gli ultimi tre tiri. Tre centri per Drasen Petrovic a 3. Riporta il grande dita più 7. 24 punti già di Petrovic. Adesso sta Petrovic vincendo la battaglia. 24 a 20 contro la Snyder. Contro Oscar. Ovviamente con Esposito e Gentile assieme. Deve affidarsi alla zona. Snyder o gran imbalzo in attacco di Guczkov. Ma il grande lavoro è stato fatto a Dele Agnello che è andato praticamente a pelare, a rubare una palla ad Antonio Martini. 56 a 55 punti. Partita sempre scoppiettante. Petrovic forza stavolta. Giustamente viene punito. Recupera Gentile. Questo era un tiro che Petrovic solo doveva fare. Sentiva in tiro. Gentile in entrata. Però stavolta anche lui sbaglia. Va a cercare di disgrazie. Le trova tutte quante. Poi c'è Esposito. Commette un fallo su Petrovic. Peccato veramente. Toda Gentile. Ha sbagliato. Ha andato a cercare una penetrazione. in uno contro tre. Mentre non c'erano compagni che avessero seguito la situazione. Poteva scaricare la palla. Abbiamo qui l'intervento di Dele Agnello che arriva più tardi. Cioè di Gentile che arriva più tardi. Però il pallo di Escolta è già stato consumato. Con il uno più uno per Petrovic. Una volta segna Petrovic. 25 punti già per lui. Vero castigo. divino in queste battute. Petrovic. Dal 43 in poi. Ha segnato tutti i punti del Real Madrid. Sono gli ultimi 14. Adesso segna anche questo. Sono 20. Adesso sono 15 punti consecutivi del Real Madrid. Tutti i suoi. 26 punti personali. E non è neanche finito il primo tempo. Immaginarsi. 58 a 51 per il Real Madrid. Però partita che consiglia veramente con il basket. Bisogna dire che la Snyder sta facendo una grandissima partita. Lucco fa cercare un tiro difficile. Grande imbalzo dell'Agnello. Ancora dell'Agnello. Mossa tutte le sue doti di Salterino. Andando a prendere un rimbalzo. Esemplare. Veramente per scelta di tempo. Anche per gesto a tempo. 58 a 53. Littorna. Tanto Birukov. Tiro cortissimo. Rimbalzo di Gluckov. Esposito. Campo aperto contro Petrovic. Però va a cercare una stoppata. La trova. Ora Esposito. In penetrazione. Sbaglia. Esposito. C'è il fallo di qualcuno. È di Fernando. Fernando Martini. Secondo fallo. Rivediamo. Intrata. Di Esposito. Il fallo è di Fernando su Oscar. Sul rimbalzo. Così almeno abbiamo visto dal replay. Non è stato fiscato a pur fallo su Gentile. Su Esposito. Scusate che adesso non sembrava ci fosse. Però c'è la spinta. Infatti vedete. In questo è il preciso istante. C'è la reazione di Riggs che fisca a questo fallo. 21 punti anche per Oscar. Certamente sta mantenendo tutte le promesse della vigilia. Lo scontro Petrovic-Oscar. Finora sta vincendo Petrovic. 26 a 22. E anche il Real Madrid sta vincendo 58 a 55. Praticamente con la stessa differenza. Il punteggio tra i due super stelle di questa partita. Martino. Cargoll marcato da Gluczko. Martino con bella finta entrata. Riapre su Cargoll. Segna Cargoll. Ancettando di vedere la difesa della Snydero. Difficile seguire mentre si commenta. Ma se è una sola match-up. Dunque. Sempre difficile queste cose. Vorrei seguire anche chi segna. C'è un fallo di Cargoll su Oscar giusto. Fisciato da Kurulic. Cargoll ha il compito di seguire Oscar. E lo segue come un'ombra. Adesso vedete addirittura. Per forzare un blocco di Gluczko. Spinge violentamente Oscar Kurulic. Che ha due metri. Non può esimersi a fischiare questo fallo. Uno più uno per Oscar. Fino a questo momento. Infallibile dalle lunette. Ai ai. L'abbiamo detto di solito porta male. Si può dire. Primo o poi dovrebbe sbagliare. Questo è il modo giusto. Perché poi uno segni. 60-56. Primo o poi dovrebbe sbagliare. Infatti segna. Giusto per dire Oscar fino a questo momento. 11 su 11 di T-Livro. Snydero almeno 3. 60-57. Bell'anticipo di Gentile però. Cattoli di Espin. Sì. Gentile però poi errore. Stoppata di Gluczko. È andato a cercare il tiro sbagliato. Per gol che avrebbe dovuto proteggersi con l'anello di ferro. Andato a tirare dall'altra parte. Pensava di essere più solo. Prese una grana stoppata da Gluczko. Aveva Snydero. Nuovermente. Nuovermente sotto a meno 3. Ultimazione sta gridando Marcelletti. La Snydero ha una bomba. La possibilità di portarsi in parità alla fine del tempo. È l'esposito che tira questa bomba. È la sbaglia però. Inbalzo di Del Agnello. Del Agnello. Deviazione di Martiglia. Arbitri dicono che Del Agnello ha perso la palla da solo. Aveva chiamato Timeout Marcelletti. Petrovic da metà campo. Quasi segna. ribalzo di Cargoglio. Non entra. Primo tempo. Tanto termine. Correale Madrid in vantaggio. 60 a 57. 26 punti. Di Drasen Petrovic. 24 di Oscar. Gran bella partita. Fino a questo momento. Soprattutto una gran bella Snydero. Che bisogna dire. Ha lottato a viso aperto. Contra una squadra che segna da ogni dove. segnando a sua volta da ogni dove. Gran bella partita. Soprattutto in attacco. Da parte della squadra. Casertana. Però bisogna dire. Sta affrontando un avversario. Che in questo primo tempo. Praticamente. Ha messo a segno. Tutto qua. Ha tirato. 26 punti di Petrovic. 12 di Ryukov. E Rogers. Nella Snydero. 24 di Oscar. 14 di Gentile. E 10 di Blusco. Sono i tre falli di Cargoglio. E di Rogers. Che potrebbero essere un dato importante. E positivo. Per la Snydero. In vista del secondo tempo. Secondo tempo. Al quale di rimandiamo. Fra 10 minuti. Per lui. Sta tenendo la Snydero. Aveva la possibilità di andare a più nobile al Madrid. Petrovic. Stoppato. Da Gluckov. Delle lineele in contropiede. Tiene la Snydero ancora in rotta. Meno 5 per la Snydero. Petrovic. Tiro e segna Petrovic. 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 33 punti. Entrerà Franco Boselli per la Snydero che ha il numero 13. Petrovic. Bisogna dire fino a questo momento. ha fatto. Bello il cattivo tempo. Per ora la Snydero. Non abbiamo molte cose da riproverarsi. l'ammarcamento di Trasio Petrovic. Si ha tentate tutte. Vedete Petrovic che si libera di Esposito. Abbiamo visto Esposito per terra. Non si deve dire come. Se ne è liberato. Qui di Aveto essere perduto. In Calese Petrovic. Ora. Questo bel contropiede. Consalto dell'Aghiello che va a schiacciare. In contropiede. Più 7 per l'Ammadritte. Meno 7 per la Snydero. Marcelletti ha esaurito il suo dito di sospensione. La Snydero in attacco adesso. Snydero il primo tempo ha tirato 16 tiri liberi. Rablieto ne ha tirati 7. E la Snydero il primo tempo 16 su 16 nel tiro libero. Non è sbagliato neanche un tiro libero. Oscar in penetrazione. Tiro forzato. Ma è ribalzo. Molto buono di Kluczko. Non vorremmo che questa serie di tiri forzati fosse il preludio a un po' di nervosismo. Nelle file della Snydero. Perché gli ultimi tiri tra tutti quanti. Molto molto forzati. Un po' alla spera di Dio. Adesso addirittura Boselli su Petrovic. Immaginarsi come si spaventa Petrovic. Se il fallo di Oscar. Se vediamo Petrovic che va via. E il fallo di Oscar evidente. Prende per un braccio Petrovic. Se vista addirittura il replay. Che l'ha proprio afferrato. Il fallo che si vede in replay. E' proprio macroscopico. Grasne ancora in lunetta con due tiri litro. 33 punti fino a questo momento. Può dire che sia una brutta media per lui. Siamo appena all'inizio del secondo tempo. 34 adesso. Loro Sainz Pachinac. Accanto a lui Boselli Orente. Che con l'avvento di Petrovic. Ha drasticamente diminuito il suo minutaggio in campo. Non deve essere molto soddisfatto da lui di Petrovic. Petrovic è più bravo di lui. Queste pensiamo non ci possono essere dubbi. Boselli ha dell'agnello. L'agnello è marcato da Fernando Martini. Serie di finte dell'agnello. Alla fine perde un po' l'orientamento. Sbaglia il tiro. Di Ryukovic. Con il contropiede tiro in Hesitation. Molto bravo di Ryukovic. Che ha atteso che Boselli tentasse l'intervento. Poi quando Boselli è sicuramente scontrato con lui. Tirato tranquillo. Oscar da tre. Segna. Attenzione. Canestro dovrebbe essere valido. Perché il fallo è venuto lontano dalla palla. Vede Marcelletti che dice. Canestro è buono arbitro. E poi alza le braccia subito per dire. Sì sì. Avevo capito. Fallo del numero sei di Romai. Primo fallo di Romai. E' anche il primo fallo in assoluto. Del. Rai Madrid nel secondo tempo. 79. Adel 73. Snyder. Questo canestro di Oscar. Come la manna dal cielo. Come l'acqua per l'assettato nel Sahara. Tiene la Snyder almeno sei. Snyder sempre in partita. Cargola. Di Ryukov. Difesa zona adesso. Sempre Petrovic va a cercare lo spazio per il tiro. Non solo lo trova. Ma anche segna. Petrovic. Flagello in questa partita. Veramente. Volevo confessare la prima volta che lo vediamo un po' con occhi da avversario. Petrovic. In effetti. Usiamo a capire cosa provano gli avversari di Petrovic. Ai tempi del Zibona quando segnala canestra di ripetizione. La specie di odio che provavano per lui. Volevo veramente confessarlo questa volta. Prima volta che lo vediamo con gli occhi di chi fa il tifo contro di lui. Ma non... Se facciamo tranquillamente stiamo facendo il tifo per la Snyder. Tutta una serie di ragioni anche perché la squadra è teoricamente più debole. Quello che era il Madrid con la sua età pizza sotto il naso della squadra che ha tanto vinto nel passato. Ha detto più volte che avrebbe fatto colpette della Snyder. Cosa di cui... Noi certamente non siamo compiaciuti del genere di queste dichiarazioni. Ma in effetti Petrovic sta giocando veramente da flaggendo. Piotto per la Snyder. Per il Real Madrid. Martin Birukov. Bel passaggio sotto. Segna Romai del primo vantaggio di 10 punti per Real Madrid. Dicevamo che tutti i tiri forzati della Snyder. Ci sembrava un preludio piuttosto preoccupante. Speriamo che non continui. Del Agnello da tre. Sbaglia. Ribalzo di Romai. Capre per Birukov. Qui dovrebbe potrebbe anche decidere se è partita. Drasen Petrovic e il fallo di Del Agnello. C'è Kurilic che fisca questo fallo ma... Kurilic non è mai stato un grande amico di Petrovic quando... Infatti gli sposa il braccio. Niente da dire. Non è stato un grande amico di Petrovic quando... Kurilic arbitrava anche le finali di... ...del campionato jugoslavo. Cioè diciamo che in un'occasione... ...era sembrato molto amicoso. In un'altra occasione invece no. Un arbitro molto strano Kurilic. Un arbitro di quelli che personalmente... ...non ci piacciono per niente. Non perché non abbia dotti tecniche anzi. Proprio per il fatto che ne ha tantissime. Che è un bravissimo arbitro Kurilic. Conosce il basket e anche... ...estremamente ben messo dal punto di vista fisico. Segue l'azione. Ha molto polso. Ha molto carisma anche. Però è un arbitro di quella specie... ...deleteria di arbitri che creano... ...che pensano che siano giocatori in campo a giocare per loro. E non invece loro perché... ...la partita possa svolgersi regolarmente. Che è la categoria di arbitri... ...francamente più perniciosa. E vediamo senza per questo nulla a togliere... Kurilic dal punto di vista tecnico. Perché è veramente un bravissimo arbitro. Drazen Petrovic... ...duo tiro di lui. Non gli va dentro anche Primo. Petrovic è arrivato a 38. Sta vincendo contro Oscar. 38-30 fino a questo momento. Adesso 39-30 per lui. E sono anche... ...un 12 punti di vantaggio per l'Americh. 85-73. Moselli e Oscar si libra bene di Cargoglio. In entrata subisce una stoppata di quegli abiti pulita da Roma. Valzio di Biriucco. In ingresso in campo di Roma è stato molto importante. Che adesso è un ombrello sotto canestro. Per dire ha avuto molto coraggio anche... ...Sainz a tenerlo in panchina per tutto il primo tempo. Con l'ombrello di Roma è sotto canestro. Che è veramente più duro per la Sniper. Per prenderli in baci in attacco. Tratta di Cargoglio. Tiene la palla verso Reale. Cargoglio va a sfondare pensiamo. Più che nettamente. Infatti gli abiti sono delle stesse. Un'altra avviso per fortuna. Il quarto fallo anche di Pep Cargoglio. Va a sfondare pesantemente su Luce. Quando su Polesello. Centile, Moselli. Oscar da tre. Corto. Beh, ribalzo di Polesello. Ancora Oscar. Oscar è marcato sempre da Cargoglio. C'è un fallo di Fernando Martino. Giusto? E rientra Rogers. Ricordate Rogers. Quello che aveva cominciato sparacchiando da tutte le posizioni. E segnando anche da tutte le posizioni. E' uscito al terzo fallo. Poi non è più rientrato. Vedremo se ha mantenuto la mano calda. Gentile, marcato da Petrovic. Oscar da Rogers. Oscar da tre. Corto ancora. Inbalzo ancora per la Snyder. Boselli al tiro. E' segnato a Bosetti. I primi due punti. Tengono la Snyder a meno 10. 85 a 75. Oscar già due errori in attività. Pesante. Diamo che rientrerà. Dell'Aghiello. Petrovic. Penetra e riapre. Classico per Biruco. Che ha sbagliato. Un dito un dito. Tiro da tre. Martin forse mette un piede sulla linea. Marcelletti si arrabbia con l'arbitro. Martin subito molto lestamente. Portato il piede all'inno. Dentro. Tiene la palla reale. Adesso nettamente abbassato il ritmo di gioco. Petrovic. Passi di Petrovic. Se è giusto. Petrovic si arrabbia perché a fischiare questa infrazione è stato l'arbitro Riggas che in teoria avrebbe dovuto essere coperto. Oscar lì viene dato un momento di riposo. Non ci sembra di poter dire Marcelletti abbia totalmente ragione in questo caso. Oscar era apparso un tantino stanco. Queste ultime battute. Snyder non può permettersi di avere Oscar con la lingua per terra. negli ultimi minuti. Gentile forza, sbaglia, recupera. Si scontra con un paio di giocatori. La madreta riesce lo stesso a mettere la palla dentro. Bravissimo Gentile. Gentile 18 punti. E la Snyder non ha meno 8. La Snyder sta lottando con un'unico identico. Gentile sta dicendo a Pulis è stato toccato sul braccio. Cosa che crediamo. Rodgers gira la palla contro la zona del Snyder. Tiro sbagliato di Martini. Valso Gentile. Potrebbe essere un momento del risveglio questo per la Snyder. Ha rifiattato. C'è il fallo di Romai. O forse di Petrovic già prima. Vediamo. Petrovic già prima. Secondo fallo. Nel fallo di Romai era ininfluente. Il fallo vero è quello di Petrovic che è avvenuto prima. Snyder ha la possibilità di andare a meno 6. Con l'esello contro Martini. Fallo di Martini. Enorme. Martini dovrebbe essere sul quarto fallo. Snyder ho già 7 falli nel secondo tempo. Real Madrid 5. Con 4 falli Martini e 4 di Cargolio. 4 di Fernando. Moselli e Gentile. Ora entrata coraggiosa di Gentile. Palla che arriva in qualche modo. Dell'Agnello stoppato. Recubra dell'Agnello. Ancora un'entrata dell'Agnello con grande caparbietà. Trova questo canestro. La Snyder lo sta alluttando. Il nudo a Mirella. 6 punti per la Madrid. Che ha avuto già 12 di vantaggio. Maginera a Madrid. Sainz e Luic preoccupati. In un tantino. E la Rodgers al tiro. E sbaglia Rodgers. C'è un fallo. Fallo di Romain. Forse. Si dovrebbe essere di Romain. Abbiamo visto Roma è abbastanza nettamente spingere a rimbalzo. Infatti il secondo fallo di Fernando Romain. Snyder dunque ancora più che viva. E vediamo il tiro di Rodgers che è rientrata a freddo. Sbaglia. C'è magari il fallo di D'Agnello. Visto dal replay. D'Agnello stava tagliando fuori Roma. Il nuovo piuttosto vistoso. Un tantino rovesciato. Stavolta gentile. Va a cercare un tiro difficilissimo. Rimbalzo di Roma. E c'è il fallo di Gluczko. Protesta la pantina del Snyder Romain. Il fallo era nettamente di Gluczko. Si è arrampicato sui spalle di Roma. In un paio di occasioni. Vedete qui le tocca sulla spalla un paio di volte. E poi però l'arbitro di Gastenzione. Fisca il fallo su quest'ultimo contatto. In quest'ultimo contatto. Dopo che Gluczko aveva disturbato in tutti i modi Romain. Anche fallosi. Ripetiamo. Nell'ultimo contatto. Probabilmente il fallo era di Roma in atto. Diciamo una frase consueta. Gli arbitri erano lì. Erano nella posizione migliore per vedere. Non abbiamo ragione di non crederlo. Romain segna il primo tiro libero. Mirai al Madrid dopo un lungo tempo segna. Sono tre punti da Fernando Romain. 86 e 79. Tutto la palla del meno 4. Snyder adesso ritorna a meno 8. 87 e 79. Partita nettamente calata di ritmo. La Snyder invece dovrebbe mantenere alto il ritmo. Forse ha paura di morire prima lei. Si tiene il ritmo altissimo. Dell'agnello. Percussione gentile. Tiro forzato. Rimbalzo di Polesello. Che lotta. Grandi lotte sotto canestro. Gli arbitri dicono che tutto regolare. Niente era regolare in questa azione. C'erano stati falli da ambo le parti. Sicuramente. Qualcosa avrebbero dovuto fischiare. Certamente. Petrovic. Gentile intanto sta gridando qualcosa. Turilic. Marti da fuori. Porto rimbalzo di Gentile. Viriukov e Petrovic da qualche tempo. I credimenti non tirano più. Dell'agnello a forzare segnare. 17 punti. Pensato dell'agnello che sta giocando. Subito in questo secondo tempo. Una grandissima partita. Marcelletti elettrico letteralmente. Sta salta beccando su giù per la panchina. Ma certamente l'occasione della sua vita questa. Rodgers. Viriukov. Batte la prima linea difensiva. Sbaglia. Però c'è rimbalzo. Di Martini su cui c'è un fallo. Fallo di Polesello. Così dovrebbe essere. Vediamo. Viriukov che sbaglia. Un'entrata bella. Fallo di Polesello. Abbastanza evidente. Quarto fallo di Polesello. C'è ancora Fernando Martini. Non è un gran tiratore. Invece è andato due tini di diretta. Martini. E' ha consigliato in azione di tiro. Sbaglia il primo tiro libero. Martini 0 si doveva metto. Se tutti quattro falli. Questi sono sette i punti. E ci sono anche sette punti di vantaggio per il Raimondo. 88 reale 81 fa. Dobbiamo realvuto. Massimo vantaggio 85 a 73. L'agnello a Boselli. Boselli bel passaggio sotto per Gentile che segna. Molto bravo Boselli a vedere Gentile. Ma anche molto bravo Gentile a tagliare. Probabilmente fuori da ogni schema. Conosciamo gli schemi della Snyder. Questo taglio fuori da ogni schema ci fa. Pensare a Gentile il nuovo. Molto più positivo. C'è giocatore. Istintivo in fattura. Che sa cos'è il basket. Dall'altra parte però c'è Strasi Petrovic. Che riprende a Martellano. Petrovic 42. Altra bordo. Mell'agnello in entrata. Porta storta. Spisce il fallo. La Roma. Vediamo di chi è il fallo. C'erano Fernando Martini a Roma. E' molto bravo dell'agnello. Ma ho mai il fallo. Dall'azione. Fallo è sembrato di Roma. Mai. C'è però discussione in realtà. Vediamo Rigas. Cosa decide. Per Roma dovrebbe essere il terzo. Però attenzione perché per Fernando Martini sarebbe il quinto. Questo comunque è il settimo fallo di squadra per il Real Madrid. Rigas non ha problemi a discutere con il tavolo. Vediamo Roma ai fallo. Terzo. Problema a discutere con il tavolo. E' sempre. Di casa. Costa Srigas. Arbitro abbiamo visto per la prima volta. Gli europei femminili del 1980. Vaglia e Luca. Arbitro la finale anche in quell'occasione. Finale poi di giocare anche stranamente. Nel sovietica e Polonia. Non abbiamo errati. Ma c'è prima apparizione internazionale. Da lì la sua strada è salita. Certamente uno dei migliori arbitri. Cioè. Secondo noi. Un arbitro numero uno in Europa. Senza tema di grossa concorrenza. Un giovane arbitro finandese. Junge Bratz. Molto giovane. Potrebbe essere. Suo successore. Però ancora abbastanza certo. L'agnello sbaglio. Primo tiro libero della ripresa. Per la Saito. E' attenzione anche il primo tiro libero. Nassun. La Saito. Lo sbaglio in questa partita. Secondo è buono. L'agnello è arrivata già a quota 18. Sono 30 ai punti di Oscar. 20 di Gentile. 18 delle ghelle. 12 di Gritzko. Granderetti vantaggi di 7 punti. 91. 84. Petrovic. Di Ryukov. Sempre difesa a zona. Molto adattata. E c'è Rodgers. Secondo errore di Rodgers. Beh ribalzo di Gentile. Coppa e taglia fuori della difesa della Snyder. Lo Snyder lo sta giocando. Sempre un grande concentrazione. Forse le forze. Le forze stanno avendo. Un tantino a mancare. Però la concentrazione è sempre. Quella. Oscar batte Rodgers nettamente. Rodgers quarto fallo. Adesso ci sarà. E lunetta. Con uno più uno ancora. Oscar. De Serra. Schmitt. Mai cittadino. Non orario di Caserta. Sette anni a Caserta. Chi amato in Europa. Ricorderete. Da Bogdantanovich. Che ha fatto probabilmente l'affare del secolo. chiamando Oscar. Chiamando Oscar. Oscar che ricordiamo. Ha in tasca. Da qualche anno. Un contratto no cut. Senza taglio. Per un anno garantito. Per New Jersey Nets. era andato a provare con i professionisti. Ho tenuto il contratto. Si è tornato in Europa. E ha voluto dimostrare conciò che non è vero che solo determinati giocatori. gli interiornati paesi possono giocare tra i professionisti. C'era qualche imbecillo. Bisogna dire. In Europa che dubitava del fatto che Oscar fosse un campionista. Un errore di Cargola al tiro. Oscar è uno dei più grandi campioni del basket attuale. Da tre Oscar. Segna Oscar. 35 punti. A secondo tempo tre bombe. Attenzione perché la Snydero è a meno 2. 91-89. Per ridendo e scherzando. Era il Madrid che aveva preso. Sembrava aver preso il largo. Adesso Petrovic uno dei suoi caratteristici tiri. Tipo Zibona quando vuole decidere lui la partita. Per la Snydero è venuto il momento più perfetto. Petrovic ha sbagliato. Saits chiama un minuto. Ci sarà adesso. Un minuto in sospensione con la Snydero. Sta giocando la palla del parecchio. Oscar da due. Baglia. Roma il rimbalzo. Però Roma il si ascia sfuggire la palla. L'abitro Riggas dice che è stato a toccare per ultimo della Snydero. E c'è da credergli perché Roma il avrebbe potuto tranquillamente prendere quella palla. Si è lasciata sfuggire. Vediamo. In effetti però a questo replay almeno sembra che non l'abbia toccata proprio nessuno. L'abitro dice che ha toccato il giusto. Palla però. Giocata dal Real Madrid. Real Madrid 91. Snydero 89. Snydero ricordiamo era sotto 85 al 73. Da quel momento c'è stato solo un canestro da tre di Petrovic. Tre tiri liberi di Roma e Martin. E per il resto tutta Snydero. segnando canestri così. Di pura grinta è riuscita a tenersi a gallo. C'è questa zona che sta funzionando molto bene. Di Lyukovce Petrovic. Si libera per il tiro da tre Petrovic ma anche lo segna Petrovic molto rischiato stavolta. Stavolta il tiro gli è andato bene. Petrovic si sta tenendo a galla da solo in questi momenti. Grande retta avanti di 5 Petrovic 45 punti. Oskar. Per retrazione. Bel passaggio a Gluckov. Fallo di Lyukov. Lyukov terzo fallo. Barcelletti. Sappiamo se ha con sé la borsa con l'asciugamano e il sapone. Dopo la partita. Maginarsi poi se la Snyder lo vince. Dovrà comunque farsi una doccia di quelle... Una doccia di quelle complete proprio. Gluckov ha sbagliato il primo tiro libero. Il primo tempo aveva segnato gli utili liberi. Non è un grandissimo realizzatore. Un utili liberi. Gluckov questo però lo mette a segno. 94, 93, 13 punti per Gluckov che ha fatto certamente da sua parte. Petrovic contro Boselli. Boselli marcamento aggressivo su Petrovic. Petrovic va via. Riapre per Lyukov. Classico schema. Lyukov però soltanto non ha trovato il tempo per il tiro da tre. C'era Gentile su di lui subito. Serie di blocchi per Petrovic. Petrovic per Rodgers. Secondo tempo assolutamente ininfluente. Errore di Rodgers. In balzo di Boselli. Ecco questo è il vero Rodgers. Oskar. Penetrazione malintesa. C'è male accorto soltanto. Oskar si è fatto deviare la palla. 94, 90. Petrovic 45, Oskar 35. E Petrovic che tiene la palla. Subisce anche il fallo da Boselli. Protesta. Il fallo è fiscato a Furulic. Possiamo pensare che protesti da Sneijdero. Chissà. Dava l'impressione di tenere la palla a Boselli. Questo è un po' con il sicuro. Bisogna vedere però cosa era successo prima. Petrovic 1-1. Non si c'è una giustizia. Dovrebbe sbagliare? No. Non dovevamo dire così. Possiamo dire. Petrovic si sconda impassegnato. Tutti i tiri liberi che ha tentato. 5 su 5. 46 punti. segna anche questo però. 47 punti di Petrovic. Più 6 per il grande di 96-90. Sneijdero che ha avuto la palla del pareggio. Sul 91-89. Gentile c'è il fallo di Petrovic. Petrovic 3 falli. E c'è un altro Gentile che andrà in lunetta con 1-1. Gentile 20 punti. Però 4 falli. Come 4 falli anche Sposito. Per fuori 4 falli anche Polesello. 3 falli Degnello. 3 falli. Oscar. Gentile 21 punti. A questo momento. Diciamo. Banditile liberi ha segnato. Tutti. 3 su 3. 22 punti. 96. Reamerick. 92 snipe. Partita dunque combattuta fino all'ultimo istante. Petrovic da 3. Sbaglia. Rimbalzo di Gentile. Penetrazione di Gentile segna. 24 punti di Gentile. 96 a 94. 2 minuti e 45 alla fine partita che pensiamo a Caserta in questo momento sarà vissuta tutta in piedi del pubblico che non è andato ad Atene. Non c'è un fallo di Buselli. Voglio lo sfondamento Barcelletti ma Buselli aveva nettamente tagliato la strada. chiaro che i due allenatori adesso non possono essere molto sereni nelle loro valutazioni. Direttamente tagliata la strada. di Ryukov possono essere dubbi. 20 punti di Ryukov per Buselli. Secondo fallo. Ryukov sbaglia. Rimbalzo che carambola sulle piede di Romai. Ryukov sbaglio. Tiro libero. Attenzione. Snyder o palla del pari. Giusto? Palla è carambolata sul Tinko di Romai. Vediamo. Cosa succede? Gentile. Pasticcio un po' da Snyder. Buselli. Gentile da tre. Un tiro folle. Sbagliato anche il rimbalzo che Kluczko tocca. Gentile stavolta ha fatto il Petrovic. Ha voluto decidere lui la partita. Non l'avrei voluto farlo. C'ha Oscar in campo. Non deve dimenticarlo. 96-94. Tiro che se va è un eroe però non è assolutamente necessario tentarlo. C'è il fallo di Dell'Agnello che taglia la strada. Petrovic. Dell'Agnello quarto fallo. Rivediamo. Petrovic. Petrovic ce l'ha preso. La linea del vantaggio direbbero i reggisti. Finora infallibile dalla lunetta Petrovic. 97-94 per il Real Madrid. 48 punti per il Real Madrid. 49. Non è riuscito l'aggancio alla Snyder. Tanto il tempo passa. 1,50 alla fine. Oscar da 3 segna. Oscar da 3. 38. Ecco quello che dice. Quello che volevamo dire prima. Ciao Oscar in campo. 98-97. 1,40 alla fine. Partita dunque. si deciderà allo sprint. Rodgers. Minuto e mezzo. Biriukov. Rodgers. Non tira Rodgers. Vedremo chi tira. Petrovic. Rodgers. tiro all'ultimo secondo di Rodgers che va a segno il centesimo punto del Real Madrid. 100-97. Però attenzione adesso c'è la Snyder in attacco. Gentile. Oscar da 3 ancora. Sbaglia. Oscar in balza e De Agnello. De Agnello subisce fallo probabilmente. Fallo è di Biriukov. Biriukov. Quarto fallo. Vedremo cosa farà De Agnello. Mossa entra esposito. De Agnello si libera benissimo. C'è il fallo. Due tiri per De Agnello. Un minuto esatto alla fine. De Agnello ha nelle mani il pallone che può tenere la Snyder in partita nel modo completo in questo incontro. 18 punti fino a questo momento per lui. Quattro falli però. Sono quattro umili della Snyder con quattro falli De Agnello secco. 198 con un tiro per Sandro De Agnello. 199 molto bravo De Agnello è riuscito a mantenere la freddezza necessaria. Un punto di vantaggio per Alba 3. 199 questa è una palla che può valere una coppia delle coppie. Biriukov Petrovic ancora Biriukov Petrovic fallo di Oskar Oskar quarto fallo eh sì sposta il braccio di Petrovic vediamo cosa fa cosa fa il Real Madrid si tiene la palla no va a tirare con Petrovic Petrovic anche lui segna Petrovic cinquantesimo punto per Petrovic 101 99 adesso dovrà andare al tiro da 3 da Snyder 51 punti per Petrovic 102 99 attenzione manca poco alle fide Esposito Oskar e il fallo viene fischiato un fallo Agluskov viene attacco pensiamo vediamo blocco irregolare pensiamo vediamo che Rogers va a terra dovrebbe essere un fallo in attacco no forse a Rogers chissà vedremo un fallo al numero 14 da vedere che numero 14 Luskov ha portato un blocco a favore di Oskar era sempre la stessa era sempre la stessa azione con la quale Oskar aveva segnato il canestro da 3 che aveva portato la Snyder a meno vediamo che Curli sta andando dire a Barcelletti che non c'è Time Out Marcelletti chiama il Time Out vediamo il di altro cosa di segna Oskar dove sei questa è la situazione di zero se qui non prendi il blocco ritorna la palla vattene di qui tanto lo senti con il tuo cuore però sto di là non c'è però con il tuo cuore di qua vanno liberi vai dall'altra parte Sandro Delegnelo deve portare un blocco a Oskar dall'altra parte è tanto però avete sentito anche Barcelletti ha detto chi è libero tira con un fallo di Rogers Rogers quinto fallo fra l'altro l'ultimo tiro per la Snyder deve andare a tiro da 3 Oskar da 3 segna Oskar parità 102-102 Oskar parità è la prima parità del secondo tempo ultimo attacco per il Real Madrid 102-102 51 Petrovic 41 Oskar perde la palla Petrovic perde la palla Petrovic Esposita 3 secondi Esposito Gentile cosa succede fallo dovrebbe essere non fallo dovrebbe essere un fallo di Biriukov cosa succede Marcelletti sta chiamando qualcosa vediamo Rigas vedete tutti i dirigenti del Snyder Costas un canestro da 3 vediamo c'è un intervento di Biriukov Gentile che non è certamente pulito Gentile magari ha fatto un po' di scena bisogna dire e rivediamo quest'ultimo vedete Gentile è andato prima a cercare il contatto con Biriukov poi fra la scena di quello che ha subito fallo molto molto smaliziato Gentile certamente Regas discute col tavolo la Snyder non è mai stata in parità nel secondo tempo a parte quest'ultimo canestro non è mai stata un po' di scena un po' di scena un po' di scena un po' di scena se il Real Madrid vince il merito suo certamente ha segnato 51 punti ha tenuto il Real Madrid a galla nei momenti in cui nessun altro segnava ha segnato tiri liberi ha segnato tiri da 3 ha fatto di tutto comunque ha segnato 51 punti certamente non ha giocato male però Petrovic ha perso l'ultima palla forse Petrovic è un giocatore da tenere in campo per 39 minuti poi l'ultimo minuto fa giocare qualcun altro chissà questa è una cosa di cui abbiamo avuto sempre più abbiamo avuto sempre più confermi in questi ultimi tempi invece Oscar dall'altra parte è tenista tiro da 3 che deve portare la squadra di supplementare lui buca senza problema Oscar nel secondo tempo ha segnato solo da 3 totale 6 bombe per noi ha segnato 6 da 3 5 da 2 Oscar extra time comunque si gioca è supplementare a questo punto anche i falli saranno molto molto importanti vediamo poi i falli c'è Rogers fuori con 5 Cargol 4 Biluco 4 Martin 4 nella Snyder 5 uomini con 4 falli Gentile esposto dell'Agnello Oscar e Polesello l'unico è Gluckov che può fare ancora falli nella Snyder e vediamo questo supplementare chiediamo scusa ai tifosi del calcio sta cominciando il Bayern Harsell Middottiani in questo istante ma pensiamo veramente che sarebbe assolutamente sono assolutamente a questo punto criminoso proseguire questa partita fino in po' avete visto la gomitata che ha dato Martina a Esposito sul salto a 2 non è successo niente e inizia il supplementare dunque decisione Salomonica l'intervento su Gentile non è avvenuto perché era terminata già la partita prima palla giocata da Real Madrid da Petrovic Petrovic con le mani la palla della vittoria l'ultimo seconda palla buttata Birukov sempre a zona ovviamente a snaga può fare altre carica di falli Petrovic da 3 segna Petrovic che comincia a segnare subito una bomba Petrovic porta la materia di vantaggio 105 a 102 Petrovic 54 punti non ha giocato malino in effetti Esposito a Gentile Gentile da 3 corto rimbalzo di Oscar c'è il fallo di Birukov anzi di sì di Birukov del quinto fallo di Birukov dunque un'altra che esce per falli fallo su Oscar ha scelto proprio l'uomo giusto Oscar in lunetta con uno più entra Paco Gliorente cioè no Paco José Gliorente Paco Gliorente è suo fratello quello che gioca nel Real Madrid ma di calcio sono fratelli i due infatti sono nipoti ambedue del famoso Gento l'ala sinistra del Real Madrid calcio del tempi d'ora Oscar uno più Oscar quattro falli Sagna Oscar 105 a 103 qui è tutta questione di nervi a questo punto i supplementari sono una lotteria assolutamente quel tie break nel tennis 105 a 104 Oscar 43 punti 54 punti Petrovic 43 Oscar è stata bravissima la Snyder a non perdere non perdere la testa al momento in cui si trovava sotto i 12 punti tiro di Cargol sbagliato rimbalzo con fallo in attacco di Romai 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 quarto fallo dunque palla a sorpasso per la Snyder e un altro giocatore del Real con quattro falli fallo evidente su Gluckov rivediamo Gluckov che lo taglia fuori e Romai che lo spinge in modo molto vistoso è stato mandato Gluckov in lunetta c'era Oscar che aveva tentato il solito trucchetto Gluckov non è un grandissimo iniziatore i libri oggi con la 3 su 4 speriamo vediamo sto dando la carica Gluckov corto però il suo tiro sbaglia l'uno più uno Gluckov giocato un minuto nel secondo tempo Petrovic Fiorente c'è il fallo di Esposito e cominciano ad uscire anche i giocatori della Snyder quinto fallo di Esposito lo vediamo vediamo Rigas che coglie Esposito che ha preso per la mano Gluckov questo è il classico fallo che in replay non si vede che possiamo solamente intuire possiamo intuire come dal momento in cui Rigas reagisce cioè quando lui ritiene di aver visto un contatto falloso possiamo immaginare che sia stato in quel momento ovviamente uno più uno per José Riorente Giorente giocò già la finale di Coppa delle Coppe di 1982 a Bruxelles quando il Real Madrid perse attenzione ai supplementari contro il Zibona dunque può essere un momento interessante questo dal punto di vista cabalistico Oscar da tre sbaglia balzo di Martini tiro un po' forzato questo di Oscar evidentemente si sentiva sicuro c'è stato un canestro importantissimo errori anche nei tiri liberi adesso sta giocando tutto sui nervi Petrovic marcato da Gentile Gentile anche lui quattro falli Cargo Petrovic Petrovic tutta la partita in campo grande penetrazione Petrovic stoppato da Gluczko poi Gluczko interviene però che dovrebbe essere canestro buono questo di Petrovic ribalzo di Petrovic stoppata in parabola discendente 107 a 104 56 punti di Draghi Petrovic bravissimo Gluczko va a stoppare due volte la seconda volta però in modo irregolare De Legnello dicono che non c'è fallo Petrovic salva Llorente Cargo può essere il momento decisivo della partita Petrovic Llorente ancora Petrovic può molleggiarsi per il tiro da tre lo sbaglia ribalzo di Oscar questo era un buon tiro da tre per Petrovic Oscar tutto il campo da solo fallo di Petrovic quarto fallo rivediamo Oscar che fa tutto il campo in palleggio batte Cargo poi sull'entrata c'è Petrovic che taglia la strada vedete Rigas vedete l'arbitro bravo che mentre sta fischiando il pallo sta guardando in alto cosa succede con la stoppata di Romai qui si vede l'arbitro che sa arbitrare minuto in sospensione per la Sneijder guardiamo sta giocando il supplementare della finalissima e Coppa delle Coppe Real Madrid Sneijder Caserta di Atene partita che il Real Madrid ha sempre condotto guardiamo 11-5 poi 26-17 poi 50-44 58-41 73-66 addirittura 85-73 poi intanto la Coppa delle Coppe offerta dal giornale sportivo polacco Psyglad Sportow poi la specie di gazzetta dello sport polacca o corriere dello sport tutto sport come volete quello che facciamo non solo di questo giornale Oscar ancora due tiri Oscar 43 punti Oscar sta legittimando in questa finale il suo nuovo record di tiri liberi tiri liberi consecutivi segnati nel campionato italiano questo oggi adesso abbiamo parlato troppo presto purtroppo aveva finora 16 su 16 con la lunetta ha sbagliato questo tiro libero Oscar non eravamo sicuri che segnassero questo abbiamo parlato chi diamo scuso Viorente Romai Viorente del servizio sotto per Martini il suo gancio Martini 9 punti ma questo vale doppio 109 a 105 109 105 Snyder Oscar marcato sempre da cargol fa forzare il tiro Oscar riprende Kruskov c'è il fallo attenzione perché l'abito fisca il fallo a Gluczkov ecco perché dicevamo che Kurilic crea e vediamo rivediamo Oscar forza un po' il tiro subisce il fallo di Romai vediamo intanto vediamo se c'era il fallo su Oscar Oscar ha molto forzato il tiro l'abito Kurilic dice che Gluczkov va tenuto per terra a Gluczkov terzo fallo di Gluczkov Rai Madrid tiene la palla Roma a Gluczkov ben servizio sotto per Martini segna Martini c'è anche il pallo sempre Kurilic che fisca il pallo a Gluczkov attenzione ecco perché dicevamo che Kurilic crea in questo momento era stato molto bravo fallo però di Gluczkov stavolta tutto sommato dobbiamo dire che c'era molto nervosa molto nervosa la Sneijder 111 a 105 ci sarà ancora un tiro libero supplementare per Fernando Martini l'ultimazione estremamente dubbia dette gentile ce l'ha con Kurilic che non ci è piaciuto oggi proprio per niente proprio per niente questi ultimi fisco tutto il secondo fallo di Gluczkov da dire Oscar aveva forzato il tiro Martini sbaglia Rigas dice palla per Sneijder perché la palla non ha toccato l'anello di ferro addirittura Martini 1 su 4 la lunetta 111 a 105 Sneijder adesso subito Gentile da 3 non c'è altro a fare Gentile segna vedete la Sneijder mai morta 111 a 108 partita partita drammatica veramente credibile stupenda Petrovic fa forzare il tiro assegna Petrovic questo un canestro da vincente di Petrovic niente da dire Gentile d'altra parte incredibile da 9 metri Gentile da 9 metri 113 a 111 e poi c'è il pallo di Vitiello pallo di Vitiello con un rotto il giovane Giuseppe Vitiello non c'ha molti altri giocatori della Sneijder tiene la palla il Real Madrid 113 111 e attenzione perché Curilis continua a creare fischia il quinto fallo Oscar Oscar ride poverino e qui Curilis ha veramente deciso ormai è rimasto senza parole Oscar quinto fallo per lui viene viene Oscar applaudito in modo rumoroso dal pubblico ovazione per lui ha giocato una strepitosa partita Martini ultimo minuto Petrovic forza questo tiro ma lo segna Petrovic siamo arrivati a quota 60 per Petrovic fallo di Llorente primo fallo Schneidero con Gentile che ha segnato due bombe folli da 9 metri si mantiene in corsa tanto Petrovic arrivato a quota 60 segna gentile gentile gamba c'è questa partita francamente sono il prossimo gamba ma non si deve dire perché chiaramente è una specie di blasfemità quella diciamo gamba inutile insegnare il mestiere gamba però un gentile con questa autorità anche alla nazionale italiana servirebbe molto tanto Petrovic è arrivato a 62 tiro adesso da disperazione sbagliato Petrovic adesso sta facendo tutto da solo Llorente c'è il fallo c'è Petrovic che se la prende con Gentile un po' di un po' di sangue caldo fra i due abbiamo letto delle dichiarazioni di Gentile diceva che Petrovic gli ha fatto di tutto nella partita di ritorno a Caserta abbiamo letto però anche delle dichiarazioni di Petrovic nelle quali ha detto che a sua volta Gentile gli ha fatto di tutto sempre nella partita di Caserta da questo a Rashomon particolare francamente ce ne chiamiamo fuori non abbiamo visto partite di Caserta non sappiamo cosa è successo a Freddy però il fatto che non siano proprio amicissimi l'ho saputo vedere anche in quest'ultimo sconto bisogna dire però che tra il petro rischio 62 punti questo giro ha fatto abbastanza la differenza a Snyder vediamo 27 secondi alla fine con Real Madrid che sta tenendo la palla 4 punti vantati vogliamo guffare Snyder Snyder si sembra ancora in corso attenzione la squadra non ha assolutamente perso la concentrazione c'è un fallo ancora su Petrovic di Gluckov quarto fallo per Giorgi Gluckov tanto sono passati 6 secondi 19 secondi alla fine quella panchina da Snyder vuol dire che la Snyder ha fatto una partita sensazionale questo giro 14 da Snyder la panchina da Snyder non possono proverarsi assolutamente niente hanno avuto l'esatta l'esatta descrizione mentale per questa partita sono hanno preparato questa partita nel migliore dei modi sia psicologico che tecnico andiamo adesso sul fallo di Gluckov Gluckov quinto fallo la partita sta finendo altro giocatore che esce per 5 falli adesso le uscite per 5 falli sono 3 a 2 per la Snyder bisogna dire che fischi di Curilici in questo finale di partita tutto nel supplementare sono hanno lasciato adito a molti dubbi Fernando Martini 1 più grazie a tutti grazie a tutti Grazie.